Buonasera visualizzazioni e bentornate in questa nuova puntata di Sottocopertura. Oggi abbiamo veramente un botto, ma un botto di roba da andare a vedere. Perché la mia esplorazione di qualche giorno fa nella community anti-cringe ha dato dei risultati che sinceramente non mi aspettavo. Vi ho portato alla luce qualcosa che era addirittura sopra le mie aspettative, quindi ve lo dico già da adesso. Io all'inizio di questo video vi faccio un micro riassunto di quello che è stato l'altro video, però per completezza ve lo lascio da qualche parte, magari o nelle schede, o qui sotto in descrizione, o comunque sia qualcuno riassuma qui sotto. In sostanza, nella puntata precedente a questa qui, mi sono andato a ficcare all'interno di un ambiente anti-cringe su Discord. Che cos'è un ambiente anti-cringe? Un ambiente nel quale un sacco di ragazzini spargono odio su altri ragazzini e non, con delle spedizioni di odio organizzate e tutte queste venate qui. Soltanto che le abbiamo viste estremamente nel dettaglio e ci siamo resi conto tutti insieme di tante cose. Oggi andiamo a vedere nel dettaglio tutto quanto, ma prima la maglia che mi vedete indossare oggi è di Pumpling, in particolare quella del set di Pac-Man, e la potete trovare sul loro sito. Qui sotto in descrizione vi lascio tutto ciò che può servirvi, tra cui il mio codice sconto Gematria, che è cumulabile a tutti gli altri sconti già presenti sul sito, e che vi farà ottenere anche delle calze gratis. Quindi, nel caso vogliate dare un power-up al vostro guardaroba, scegliete Pumpling e dite che vi mando io. Detto questo, una cosa da sapere ragazzi, è che il server Discord di cui vi ho parlato la scorsa volta ha chiuso i battenti dopo soltanto tre ore dall'uscita del mio video. Veramente un record, addirittura per questo canale è un record. Tuttavia, per sfortuna e disattenzione da parte dei proprietari, io ho ancora tantissimo materiale da mostrarvi, però da una parte posso ritenermi soddisfatto di aver involontariamente, ovviamente, fatto aprire gli occhi a dei ragazzini che adesso ci penseranno forse due volte prima di spargere audio gratuito su internet. E questa cosa forse può salvarli, non dico totalmente, ma almeno in una micro percentuale il futuro. Non lo so. Prima di iniziare effettivamente, ci tengo a specificarvi che ovviamente il mio scopo con questi video è soltanto un po' divertirmi, e un po' aprire una finestra su quelli che sono questi strani mondi che ci sono su internet. Ma in vita mia mi sognerei di fare il giustiziere su internet, di andare a fare pulizia, non è qualcosa che mi interessa ed è appunto ciò che ho rimarcato nello scorso video che è stupido, quindi ci siamo capiti. C'è gente che dice di avere nostalgia della vecchia YouTube Italia quando in realtà ha 15 anni e non l'ha mai vissuta, quindi non capisco di che cosa stiamo parlando. Tuttavia, andiamo a vedere che cosa abbiamo oggi, perché pure oggi abbiamo veramente una valanga di roba da andare a vedere. Innanzitutto, nel momento in cui ho fatto uscire il mio video, è stato fatto un patto di pace tra... Mi sento troppo stupido a dirlo, però sì, non so come sia successo ragazzi, devo essere sincero, ma è successo. Patto di pace tra la community anti-cringe e la community anti-TikTok. Non... cioè verrà, è sempre l'inizio della barzelletta. Per chi conosce la lord del canale sa benissimo... Vabbè, community anti-TikTok. Patto di pace, community anti-cringe e community anti-TikTok. La community anti-cringe dovrà accessare qualsiasi tipo di ostilità contro gematria, riconoscere i propri errori e chiedergli perdono per gli attacchi subiti. Eeeh, che è successo qua? Addirittura! Vabbè, un po' di rispetto questo, dopo un anno e mezzo. O forse è questo. La community anti-cringe dovrà abbandonare qualsiasi attività di raid o nuke su Discord. E questo che cosa vuol dire? Raid e nuke vuol dire semplicemente l'assalto ad altri server, con tantissimo spam fino ad intasarli. La community italiana anti-cringe dovrà permettere a un contingente della community anti-TikTok di rimanere nel server come staffer, anche senza poteri, per monitorare la presenza di individui pericolosi, segnalarli o bannarli direttamente. La community anti-TikTok non attaccherà più pubblicamente la community anti-cringe in seguito alla firma di questo patto valido perennemente. Gli amministratori scrivono accetto per firmare. Io non so neanche che cosa sto leggendo, veramente. Ah, ovviamente ciò che vi sto leggendo è antecedente alla chiusura di questo server, quindi devo solo ringraziare il fatto che preventivamente ho detto Ah, mi sembra divertente, fammelo segnare. Ciò che voglio farvi notare comunque con questa cosa qui è quanto sia alto il grado di malattia. C'è server che controllano altri server che vanno a stringere dei contratti, dei patti? Ma che cos'è sta roba? Comunque sia, arriva il gestore della community anti-cringe, ne parlo un secondo con gli amministratori. Potremmo trattare sui punti 1 e 2? Ovvero quelli che consistono nel rompere le palle alla gente, sostanzialmente, tra cui io. Trattiamo, risponde, bene. Il punto 1 è poco trattabile. Cosa volete cambiare? Di giù ragazzi mi sento troppo stupido ad assistere a questa conversazione, ma benvenuti su Discord. Noi accetteremmo anche la regola 1, se solo lui non ci fa alcuna diffamazione contro, video contro eccetera, madonna la grammatica. Quella non è diffamazione. Ah, volevo aggiungere a quello che dice Tizio di prima. Certo, ma non perennamente così. Magari dopo sei mesi di tutto ciò rimaniamo sotto stretta osservazione. Che ne pensa? Gli dà pure del lei, gli dà, capito? Cioè, quindi, soggetto importante questo. Facciamo che per i primi sei mesi avete una limitazione di due raid al mese, poi ci si allenta a quattro e dopo un anno sei. Facciamo che dopo un anno rimaniamo sotto stretta osservazione. Che ne pensa? Va bene. Dopo due ci lasciate in pace. Che ne pensa? Quindi aspetta, tu stai con la testa che tra due anni stai ancora qua. Cioè, nel senso, tra due anni stai ancora a fare ste guerriglie su Discord? Ma serio? Perché non scopo? Gli riscrivono tutto quanto il patto? Bene. Ora potremmo provare a trattare sul primo. Ah, non è proprio rompermi con gli uoi? Per forza. Allora, ditemi se vi va bene come lo dico ora. Allora, noi nel momento cessiamo qualsiasi ostilità su Gematria. Ok. Ma in futuro potremmo diventare ostili nei suoi confronti. Mamma mia. Sto già tremando. Veramente. Per i mesi di settembre-ottobre noi cesseremo qualsiasi forma di ostilità. Dopo il 31 ottobre si vedrà. Se violerete questo, la cessazione dell'ostilità verrà prorogata di due mesi. Madonna, proprio. Signorina Rottelmeier. Quindi, allora, qua c'è scritto che fino al 31 ottobre posso stare senza rotture di coglioni da parte di questi. Almeno. Che bello. Grazie per la concessione. Va bene. Però, il signor Gematria... Suona bene il signor Gematria, però dovresti aggiungere sua maestà o sire. Il signor Gematria dovrà cessare a sua volta le ostilità con noi. Almeno per i mesi di settembre-ottobre. Vabbè, gli riscrivo una altra volta il contratto. Ma mi fa ridere che qua nessuno mi ha interpellato. E soprattutto esiste veramente gente che pensa che io possa stare a vedere che cosa mi dice qualcuno su Discord per modificare il mio comportamento. Andate a fare in cura. Sarà libero di fare video, ma non di insultarvi. Ah, e perché? Sennò che succede? Chi è questo? Emanuele, sei un cogl... Fine. Mannaggia. Però anche noi potremmo fare video contro di lui, senza insultarlo. Siete libero di fare... Ma insultatevi ragazzi, è content. A me che me ne frega. Mi regalate un video e con Giuseppe Simone ci ho fatto pure un botto di visual. Quindi, cioè, nel senso... Io sono sempre dell'opinione che chi mi ricopre di insulti è stupido e non si rende conto che posso sfruttarlo e rigirarmelo come mi pare. Però, ok, sei un grande. Ok, bene, la ringraziamo. Allora è fatta. Contratto. Acquisto fatto, insomma. La ringraziamo per la cordialità. Madonna. Ma tutta sta formalità. Cioè, proprio da niente, così. Un'ultima domanda. Questo contratto vale pure per le squadre alleate vicine alla community anti-cringe? Aspetti, un'ultima cosa. Quando finiremo di rimanere sotto osservazione? Il giorno, primo marzo 2026. Due anni e mezzo. Due anni e mezzo, ragazzi. E quello gli dice pure va bene. Cioè, è questo il punto. Questo qui non si può. Nessuna domanda. Non è che dice, oh, minchia, c'è un pazzo che vuole tenermi sotto osservazione per due anni e mezzo. Due anni e mezzo è la mia vita in cui potrei tranquillamente, non lo so, fare qualsiasi altra cosa. No, va bene. Adesso è necessario, come previsto dal punto 3, mettermi staffer, anche senza poteri. I poteri necessari sono quelli di bannare, chiccare e mutare gli utenti. Va bene se la metto osservatore? No, ovviamente. Ok. Faccia. Non posso bannare, chiccare o mutare. Modifichi. Ma perché parlano tutti quanti con lei? Che succede? Chi non muore si rivede. Vengo in pace. Sono sotto un trattato di non-aggressione con voi. Non farò niente tranquilli. Ma che è il trattato di non-aggressione? Cioè perché puoi aggredire su Discord, come madonna. Cioè, veramente? Come avete avuto accordo? Hanno firmato? Se non accettavano finivano in delle liste nere di alcuni server. Le liste nere. E parte anche un piccolo namastè. Liste nere. Su Discord, le liste nere. In tutto questo si facevano le prove generali per venire a spammare insulti sotto i miei spazi. Come se comunque a me la cosa desse fastidio. Ma va bene. Stop. 3, 2, 1, via. Ci manda la community di Alien Anticringe. Gematra è la tua fine. Non contenti, c'è anche un simpaticissimo gematrio a mori di cano. Spammato. E sinceramente ammette. Nel senso. Sarebbe comunque meglio che far parte di questi server, sia chiaro? Battuta un po' too much. Oddio, manca una battuta. Non si sa per quale motivo a un certo punto spammano le mie foto così. Vi ringrazio perché comunque avete dei buoni gusti. Infatto di uomini, si intende. Poi che succede? Il primo settembre, giorno in cui tra l'altro è uscito quel video, il canale ha compiuto 5 anni, se non sbaglio. 5 anni che mi sopportate comunque, 5 anni. Se non contiamo pure il canale vecchio, ma contiamo questo 5 anni. Vabbè, grazie a tutti quanti per gli auguri. Anche da parte di questi qua che mi scrivono buona morte, allora un dubbio, like comprati. Zia, non è che se quello che fai tu si vinculano in 4 persone, sono tutte quante più o meno tossiche, allora quello che fanno gli altri è comprato. Magari c'è tu una vita noiosa che non interessa a nessuno, ma è diritto di tutti. Mancano 15 minuti al video di geometria su di voi. Noi della Cat ci raccomandiamo di non commentare il video né sul server né su YouTube, visto il punto 1 del patto di pace. Responsabilità degli admin? Punire chi viola tale regola. C'hai capito? Ma che ambiente è? Punire. Ma che cos'è? Punire. Scrivono tipo un insulto ai miei confronti. In ottemperanza al punto 1 del patto verrai mutato per un giorno. Lo tolgo. Mi scuso. Cat contingent. Madonna. Ragazzi, ma questo qui è l'ambiente che vi piace vivere su internet. Questa è una domanda seria. Non è una provocazione o qualcosa del genere. A voi piace veramente vivere in questa maniera su internet? Cioè, internet è nato per la libertà, tolto il fatto che la libertà devi saperla usare, perché altrimenti diventi veramente un pericolo pubblico, o comunque qualcuno di fastidioso da avere intorno, ma internet è nato per la libertà e per stare bene nel possibile tutti quanti assieme. Che cos'è sta roba? Che cos'è? E qui non stiamo parlando magari di roba come il mio staff, che comunque tiene in ordine un posto. Un conto è tenere in ordine. Un conto è vedere proprio due anni e mezzo di revisione per... Oh! Ragazzi, non mandate per niente al mondo insulti a Gemartia? È sempre il mio youtuber preferito. Infatti sai come si scrive? Vabbè, in ottemperanza al punto 1, comunque, ricevo sotto il video. Non hai una buona relazione con il ALPGTO? Abbiamo già le armi pronte, preparati alla tua fine, Gemartia. Non so che cosa sia il ALPGTO, non lo so, un latte, maggio, non lo so, lunga conservazione. Tornando nel server, comunque, bro, ma pensi di hackerare Gemartia? E in tutto questo il nostro amato Forza Catania 1 dell'altra volta, se è andato, speriamo di rivederlo presto, speriamo di no. Ma tolto questo, cioè, questa gente pensa veramente... Cioè, stavamo discutendo seriamente. Allora, pensi di hackerarlo? Fammi sapere, eh, perché... Cioè, non è pensi. Pensi di essere in grado? E questa è la vera domanda. Perché poi io ci ho avuto anche una piccola checchiera dei commenti con la proprietaria del canale, della principessa Giorgia, e di questo parleremo dopo. Dobbiamo salvarci dai fan di Gemartia. Evacuiamo il server! È scritto bene. Evacuiamo il server. Madonna! Evacuaiate, prego. Ma nel senso, non c'è nessun pericolo, perché a nessuno gli fregava niente. E questo è il bello della mia community, a nessuno gli ne frega niente di venire a farvi qualcosa, perché vi siete abituati a vivere in internet come una costante guerra, come un costante... Oddio, questo qui sta per farmi questo, questo sta... No, no, zio, fuori dal tuo circoletto, non è così. E la madonna, basta capire chi è e finisce lì. Non l'hanno ancora capito, ma vabbè. So che a te non cambia niente, anzi ci guadagni, ma sappi che hanno accettato di firmare un patto per il quale non potranno più insultarti, attaccarti o commentare i tuoi video per due mesi. Per il resto continua così, ottimo video, ma spero, da mediatore di quella community, che la questione si fermi qui, o al massimo che continui per tua volontà e non perché continuino ad essere tossici nel modo da te evidenziato. Io non so chi tu sia. Cioè, con tutta la voce, io non so chi tu sia. Che cos'è sta cosa la gente che firma i patti con me presente, senza me presente? Ma che cos'è sta roba? Ma poi chi vuole firmare niente? Ma chi ti ha dato il permesso di fare qualcosa? Ma che cos'è? Parlando sempre di me, ma ormai per lui tutto internet è toxic. Calma, saremo costretti a prorogare. Calma, calma, non litigate, non litiga. Ma sì, non riceveremo odio da centomila persone. È vero, Gematria? Privacy zero, eh? Privacy zero. Io nell'altro video in questo qui mi sono rotto il caso tutto il tempo a censurare i vostri nomi pulciosi come un robottino là, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Perché altrimenti venite a fregnare e mi devo sentire i vostri genitori. Questo, eh. Che guerra di qua, guerra di là. Poi, appena si tratta effettivamente di fare qualcosa, chiamate mamma e papà, chiaro? In tutto questo mi scrivono in privato su Discord e io lì ho avuto il piacere, non lo so, di venire a conoscenza del fatto di avere una sezione messaggi privati di Discord molto piena, mia insaputa. Vabbè, mi scrive questo qui, mi fa, ciao Gematria, sono un vecchio capo del server anti-cringe, ma dopo il video che hai caricato, ovvero questo, e mi linka il video, io e il mio amico John Place ce ne siamo andati per le surde cose che hanno detto gli owner del server anti-cringe, ovvero il tizio owner di quel server e altri, dove dicevano che avrebbero acchierato il profilo della queen dello mondo, mettiti nei miei panni, sarei stato io quello che farai di New Kipi Grabber, Token Grabber, eccetera, e vedere questi messaggi, sono rimasto a bocca aperta. In più, quando hanno detto che saremmo andati in guerra contro i te, io ho detto subito Em no? Se ci sono domande oppure mi devi chiedere qualcosa, sono felice di risponderti. In caso mi dispiace per quello che hai visto, tema anche gli spettatori. Raga, questo qua è l'ambiente che frequentate voi, chiaro? Per me è assurdo che non me ne rendiate conto prima, perché davanti a una cosa del genere anche una scimmia si renderebbe conto del fatto che ah, questo qua è un idiota, questo qui sta facendo delle cose che forse forse non è che sono il massimo, ah? Magari. Però no, perché dentro di voi c'è sempre quella cosa che vi ostinate sempre a non estirpare, ma non tu in particolare, voi inteso come gente come te, oscurare qualcun altro per poter essere tu la persona che in quel momento brilla di più. Ed è un qualcosa sul quale ci metto la mano sul fuoco. Io sto lavorando perché tutti quanti nel loro piccolo ci lavorano. è un comportamento umano, però il punto è non volerci lavorare e continuare a far parte di ambienti che sono al 100% così. Ho pensato di lasciare il gruppo degli anti-cringe, ho scoperto di avere a che fare con dei bambini stupi, tra cui il leader Erciadone che vuole acchierare con il DevTools che non fa niente. Con quello ci guardi minimo i contenuti della pagina, non password o token. Mi scuso con voi che sono entrato in una community di falsi anti-cringe gestita da dei bambini che non sono manco arrivati alla prima media. Il gruppo ufficiale anti-cringe sarà questo, la epic John Community dove fanno cose fatte bene. Mi scuso ancora per quello che ho fatto, credo che Emanuele fosse una persona seria e matura. Ma pure questo, non si rende conto del fatto che in generale, che sia lì o che sia da un'altra parte, fare questo tipo di cose qui fa ridere, perché non hai il minimo potere decisionare in qualsiasi cosa tu faccia. Sai che cosa puoi fare? Tu andare a ricoprire di insulti e la gente, quello è il massimo che puoi fare, la gente ti blocca, la finisce la tua esistenza, punto. Al massimo, se cominci a diventare troppo molesto, tacchiappi una denuncia per molestia e finisce lì. Però ho capito, tu non hai il potere di fare niente, perché quello che tu reputi, oddio, è cringe, dobbiamo eliminarlo. Eh, ti dovresti auto-eliminare a questo punto. Non andate a insultare Gematra, mi sono scusato con lui e spero accetti le mie scuse. Un bravo ragazzo come ha detto, ma i veri anti-cringe non fanno certe stronzate. Ma che cos'è i veri anti-cringe, i veri anti-cringe, che cos'è? Oh, io ho cominciato a giocare a Genshin Impact ieri sera. Cancellami. Voglio vedere che mi fai. Gioco a Fortnite. Voglio vedere che mi fai. Gioco a roba che più cringe non si può, ma allo stesso tempo gioco a Dark Souls e ti potrei insegnare, capito? Cioè, non... no, no, vivi la tua vita tranquillo e non rompere le palle agli altri, punto. Era quello il sunto di quel video lì, eh, c'è nel senso. Dato che Gematra ha provocato il AILPG, che cos'è? Cioè, nessuno ve lo spiega. Noi andremo in guerra. Usate tutte le vostre forze per fargli pentire di essersi messo contro di noi. Ok. Se vuoi ti posso aiutare. Ho in mente una cosa per far crescere il server a dismisura. Riesci a mettermi i permessi. Signori, dobbiamo dichiarare guerra a Gematria? Dichiara quello che vuoi. John Community 788 membri, Gematria official server 639, st'altro server 87, 80 membri, 42, 5, dobbiamo iniziare a invitare. Ah, perché loro sono sicuri del fatto che a me me ne è fotta qualcosa che qualcuno entri nel social. Sono entrati ragazzi nel mio server Discord. Per chi volesse tra l'altro ho un server Discord nel quale ogni tanto entro. Se volete ve lo lascio da qualche parte ricordatemelo se me lo dimentico. Comunque sia, il fatto è a nessuno gli ne frega niente se è entrata nel mio server Discord perché semplicemente sono entrati, hanno spammato un po', un mio moderatore ha preso e bam, li ha calciolotati fuori e loro sono rimasti così. Ci si mette due secondi ragazzi a buttare fuori sta gente ma per qualche motivo è convinto. Fa pure un video su YouTube chiamato YouTube War 3 perché c'è stata una 1 e 2 non me ne sono accorto. Dopo il mio video però posso il canale di Gematria? No, ora siamo in pace con lui. Ah, non mi dovevi far pentire di essere nato, di aver fatto, di aver detto? Peccato. Mi iscrive comunque si è in tutto questo la principessa Giorgia. Ciao, grazie per aver approfondito tutto questo schifo che gira già da parecchi mesi, soprattutto attorno a me. Le mail con il link da Cherini Provetti mi sono arrivate come pensando che io sia scema quanto l'ora a cliccarli. E questo vi fa capire ragazzi che quello che vi ho detto nell'altro video è vero. Questo qui è il canale di una persona intelligente che semplicemente fa una roba tutto sommato divertente, non è stupida e con molta probabilità probabilmente è un adulto grosso e vaccinato a differenza di questi qua. Però capito? Cioè gli hanno mandato le email scam per tentare di fare fate ridere, fate veramente ridere. E voi questa roba la mandate appunto perché se fosse qualcun altro a mandarla a voi voi la clicchereste e ve lo dico perché l'ho fatto, l'avete cliccato, cioè siete stupidi, cazzo. Io faccio parte del server, sto finendo di guardare il video e volevo giusto dire una cosa. Se te ne sei andato tu che sei un grande youtuber e sei andato un altro youtuber non faccio nomi che combatte contro il cringe, io combatto contro il cringe? Da quando? Allora qualche domanda ce la dobbiamo fare noi della community? Forse i bambini siamo noi e non te che stiamo cercando di hackerare i canali cringe e uno non ci stiamo riuscendo. Ah, questo era il problema. Due, la maggior parte di questi canali sono troll per cui tutto quello che stiamo facendo non porterà a nulla. Ma pure se nel caso lo facete non porta a nulla niente. Quanto mi dà fastidio che si manca il punto della questione. Adesso faccio ancora parte di questo server inutile che tra l'altro ho organizzato malissimo. Ma sono indeciso se andarmene oppure no. Ma se per me dovessi andare cosa probabile allora non mostrerò più il mio lato da Aether ma mostrerò il mio lato da persona intelligente cosa che dovrebbero fare pure loro. Tutto questo per dire sono d'accordo con quello che ha detto Gematria. Edit, il server è stato cancellato definitivamente e alcuni alleati del server ci sono ancora ma stanno per cambiare. Mi sta veramente colando il cervello dalle orecchie non... Ciao raga se state leggendo questo commento leggetelo tutto per devo dirvi una cosa. Io pensavo di essere una community di gente seria dove si facevano le cose per bene. All'inizio credevo che Emanuele fosse una persona matura il momento 15.54 mi ha dimostrato che quel classico bambino temente che si finge un pro della madonna per usare il DevTools di Google per hackerare. Sul gruppo l'ho fatto notare e tutti mi vengono a rispondere ma lo sappiamo lo sapevo che con Control 1 non si faceva niente. Dopo sta roba io sono uscito da tutti i loro gruppi e mi pento amaramente della grande puttanata e minchiata che ho fatto e mi scuso anche con Gematria per avere l'offeso. Spero che tu possa accettare le mie scuse. Buona giornata John John fai quello che ti pare. Continua a far parte di questo community e farai sempre ridere gente come me. Bro, tralasciando tutto il resto fai quanti video vuoi ma un po' più di privacy non faceva male. Privacy? Io ho censurato tutto quello che potevo censurare altro che privacy. E mica sono come voi che voglio distruggere la vita delle persone. Non hai una buona relazione con il AIPGTO abbiamo gelarmi pronte preparati alla fine Gematria. Questo prima qualche minuto dopo dopo tanta discussione con gli altri stati non ti attacchera. gli altri stati. Dio mio Dio mio In tutto questo c'è stato uno spam che YouTube ha prontamente fermato di No Gematria Stop Gematria A questo era l'attacco A questo qui Bravi Come l'avete fatto voi non l'ha mai fatto nessuno. In tutto questo il server per l'appunto viene cancellato ma ne viene creato un altro che io comunque sto lì dentro e ragazzi cioè voglio server dare ai dare target allora il piano è prima noccarlo poi bisogna levarlo e non bannare i membri quale? E metto il link di un server insegneremo la punizione divina a quel bambino insignificante sta sporcando il nome del raid questo è quello che è uscito fuori da questa settimana folle ora il punto qual è? Il punto è io come detto all'inizio del video non è che abbia tutto questo interesse nell'andare a chiudere posti su internet cioè se succede che un posto che mi sta sulle palle chiude posso solo che stappare lo spumante ma non lo faccio certo con quello scopo io i video li faccio semplicemente perché mi piace fare queste cose qui e se posso informare perché no è sempre interessante avere un po' una finestrella su questi ambienti qui detto questo però io questi video li ho fatti anche per farvi rendere conto di come appaiono questi tizi se vengono messi fuori dal loro circoletto in cui parlano con tutti questi toni altisonanti questo è il modo in cui appaiono dei buffoni che stanno lì semplicemente a odiare gli altri volendo trarre due conclusioni da tutto quello che abbiamo visto oggi il punto principale è che qui non è che si è detto ah aspetta questa cosa che abbiamo fatto non va bene per uno due tre no questi qui non sono dei veri anti cringe questi non sono cioè è sempre una roba da puristi capito? non so di voi ascoltametal però avete presente i metallari puristi quelli che pensano di essere degli eletti perché ascoltano un gruppo black metal che assieme a loro ascoltano tantissime altre persone stesso ragionamento passano così tanto tempo a cercare il vero metallar il vero è che non si rendono conto della cosa principale ovvero nel caso del metal che ti devi ascoltare la musica e ti devi fare i cazzi tuoi e nel caso degli anti cringe boh non lo fa è cringe lo stesso quindi sì quel server è chiuso ma come vi dico spesso chiedere un ambiente su internet vuol dire tutto e niente a meno che non ci siano delle conseguenze quindi niente hanno chiuso questa roba qua ma tolta una buona parte che comunque si è resa conto di avere a che fare con un ambiente di buffoni e si spera che più avanti si vivranno meglio la loro permanenza su internet tanto volenti o nolenti se lo devono tenere quindi a sto punto vivetelo bene ma si è stato creato un altro server sono cose che vi ho sempre detto e ridetto questo è il motivo per cui fare le guerriglie su internet non serve assolutamente a nulla perché è una perdita di tempo tolto il fatto che io capirei se queste persone venissero pagate per fare queste cose qui no lo fanno gratis cioè stanno lì a perdere ore del loro tempo con le quali mo ci vuole dei 16 anni in poi potrebbero veramente costruire la vita dei loro sogni invece no che cosa devono fare questo contenti loro ragazzi la puntata di sotto copertura di oggi penso che possa avvolgere al termine vi ringrazio per averla vista anche oggi scusate due puntate di sotto copertura di fila ma tant'è non è di peso da me doveva uscire un altro video oggi eppure guarda un po' in realtà meglio questo mi avrebbe annoiato il video che doveva uscire e questo qui mi piace di più detto questo noi ci vediamo domani con una nuova puntata di sotto bosco e preparatevi perché torniamo su sentimental corp ciao ragazzi alla prossima ciao